I dati ufficiali relativi al 2020 non ci sono ancora, ma tutto fa pensare che nel nostro paese l'abbandono scolastico sia in aumento. Un recente studio di Saved Children ricorda che nel 2019 gli studenti che non avevano conseguito il diploma erano il 13,5%, molti di meno rispetto al 23% del 2005, sempre di più di quel 10% che l'Unione Europea si è posto come obiettivo da raggiungere. Il dato più allarmante però è un altro. Il fenomeno dell'abbandono non è uniforme sul territorio nazionale ed è sotto gli standard europei in diverse regioni del nord, mentre è altissimo al sud, in Calabria, in Campania, in Sicilia in modo particolare, dove supera ampiamente il 20%. Ma c'è di più perché sempre secondo Saved Children la pandemia avrebbe influito pesantemente sulla regolare frequenza scolastica e indirettamente sugli apprendimenti, favorendo in definitiva l'abbandono del percorso scolastico. Tutte le ricerche condotte in questi anni infatti hanno dimostrato che i tassi di dispersione sono particolarmente elevati proprio nelle aree in cui sono più bassi i risultati degli apprendimenti. Del tema si è parlato in questi giorni in occasione del G20 di Catania. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi rispondendo a una domanda del nostro direttore Alessandro Giuliani ha dichiarato come si combatte la dispersione scolastica con la formazione professionale e ha continuato bisogna dare dignità e forza ai percorsi di formazione professionale che permettono a tutti i ragazzi di avere un loro percorso. Siamo in un paese purtroppo convinto che esista solo una vera scuola e che tutte le altre siano scuole di serie B. Invece dobbiamo riattivare la considerazione degli istituti professionali. Insomma la transizione scuola-lavoro, quella buona, quella che riduce la dispersione scolastica e avvicina gli studenti al mondo del lavoro, la si fa con i percorsi professionalizzanti secondo il ministro. E nel fare un bilancio complessivo del G20 ha dichiarato tutti i paesi hanno affrontato gli stessi problemi ovvero la pandemia, la sospensione delle elezioni e il rientro in classe ma soprattutto tutti hanno capito che se si vuole ripartire bisogna investire di più e meglio sull'istruzione. Si tratta di una questione assolutamente strategica in quanto un adeguato livello di scolarità incide anche sulla possibilità di trovare un posto di lavoro. D'altronde l'abbandono scolastico è legato anche alle condizioni di contesto, all'ambiente familiare e sociale in cui si vive. Investire in istruzione nelle aree più disagiate è insomma l'unica strada che abbiamo per rompere il circolo vizioso di povertà educativa, abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale. Il PNRR dovrebbe rappresentare l'occasione per invertire la rotta ma bisogna fare in fretta senza perdere altro tempo. Il tema è assolutamente importante, noi continueremo ad occuparcene quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.